No, mi dispiace, lo devo dire con chiarezza. Io posso accettare la sconfitta con Djokovic, perché Djokovic è una leggenda del tennis. Accetto tutto, io accetto veramente tutto, ma Musetti, ancora una volta come Wimbledon, ha dimostrato il grande problema. Ma qual è? Primo set, bello, giocato bene, tranquillamente, alla pari, il Serbo non ha concesso nulla sul suo servizio. Stava soffrendo un po' di tensione, perché non aveva mai raggiunto una finale olimpica, sembrava una maledizione. 5-4, 40-0, prende, palla facilissima, con tutto il campo aperto, spaglia la direzione e prende il break decisivo. Nel secondo set, Djokovic ti fa partire con un break, stranissimo per la storia del Serbo, perché di solito lì ti cannibalizza. Te ne dà un secondo e tu non sei riuscito a tenere un servizio, perché sei crollato mentalmente fra bestemmie, paturnie, sguardi assassini verso il pubblico. Musetti, sei un talento e ti vogliamo bene, perché ti vogliamo bene, sicuramente hai 22 anni e si spera che finalmente farai il salto di qualità. Io rimango convinto che per far il salto di qualità debba cambiare allenatore, perché quella comfort zone che è troppo comoda e non si arriva mai a fare 31. Ma quando non puoi perdere il secondo set senza lottare in questa maniera? Sinceramente, no. Naturalmente io ti ferò per Djokovic in finale, perché meriterebbe il trofeo olimpico come culmine di una carriera paradisiaca. E ripeto, il problema non è che Djokovic ha battuto Musetti, perché altrimenti sarei un ignorante di questo sport. Il problema è come ha battuto Musetti. Se mi fai un primo set combattuto e dopo ti concede due break e me lo perdi senza una reazione emotiva, continuando a sbagliare, continuando a innervosirti, continuando a perdere il filo logico e facendoti dominare che lui a 37 anni viene da un infortunio al ginocchio, poi qualcuno dice che l'operazione è stata inventata per giustificarsi in caso di mancate vittorie. Non mi interessa, ma comunque non puoi arrivare a farti dominare proprio sull'atteggiamento fisico e mentale. Questo non mi sta bene. Quindi oggi è un'ennesima pagina triste di Musetti, che non è all'altezza di Djokovic, ma probabilmente pochissimi al mondo potranno dire di essere alla pari. E questi sono i passaggi che non ti fanno essere al momento alla pari di Sinner, perché Sinner Djokovic l'ha battuto, poi si è perso tra fidanzata, gossip e fatti suoi. Ma Sinner mentalmente è entrato in quel mood, tu ancora a fare il record di bestemmie, che fa divertire perché siamo una generazione che si emoziona. Ci stanno tutti i ragazzini che bestemmiano e si sentono liberati e fantastici, ma sinceramente no.